Siamo davvero soddisfatti, il centro-destra vince e Forza Italia tiene. Forza Italia è l'unico riferimento vero dei liberali, riformisti, europeisti italiani di fidare dalle imitazioni e chi esce dal centro-destra non ha credibilità e scompare. Questi sono i due messaggi. Un messaggio per noi dirigenti, che il centro-destra è apprezzato dagli elettori, quindi giusto rivendicare le proprie identità anche ogni tanto quando sono diverse, ma sempre arrivare a una sintesi e tenendo unita la coalizione, che è quello che stiamo facendo in questo governo ed è quello che stiamo facendo da quasi 30 anni. Il dato dell'astensionismo ci interroga tutti, poi la sinistra che fa la lezione viene un po' da ridere. Qualcuno dice che il record dell'astensionismo è stato questa volta, non è un record, io amo i numeri. Il record fu una certa regione, l'Emilia Romagna, il 37,7% nel novembre del 2016. Chi era il governatore eletto? Bonaccini. Quindi, come dire, è un dato che interroga tutti. Evidentemente c'è anche un tema di affezione, non so come dire, a livello regionale. Dobbiamo far capire tutti quanti che la politica è credibile, al di là di come la si pensi, e che andare a votare è un gesto di senso civico, ma anche poi di utilità, perché se non voti lasci che altri scelgano per te.